Non mi arrabbia! Oh che male! Ehi pelottino! Alex temazzo! G Mi imbarazzati Dio porco, Dio porco Alex Nel bateria mia video cane che hai fatto il fior e c'ho un porco, Dio Ossile è meglio che Attacchiamo a avere Un rapporto più normale, la strada Non è una strada più normale Staticaz Grazie.